Il referto degli studiosi stabilì che quello era il cadavere dell'Angelo della Morte, il criminale nazista più ricercato della storia. Se questa tesi era vera, che ne era stato del dottor Mengele dal suo arrivo in Brasile nel 1960 al momento della morte nel 1979? Dove e come aveva trascorso i suoi ultimi anni? In Brasile aveva conosciuto due profughi ungheresi, Gheza e Gheeta Stammer. Erano anticomuniste, simpatizzanti delle idee naziste, fuggite in Brasile dopo la guerra. Per qualche tempo offrirono vitto e alloggio a Josef Mengele, del quale ignoravano la vera identità. Lui diceva di chiamarsi Peter Oblecht e di essere un uomo d'affari svizzero. Insieme acquistarono una piccola fattoria lontano dalla città. L'edificio era sormontato da una torre, da cui Mengele poteva controllare la campagna circostante per assicurarsi che nessuno venisse a cercarlo. La convivenza con le signore Stammer non fu sempre facile, tuttavia si protrasse per 16 anni. Cambiarono anche casa, trasferendosi alla periferia della città di San Paolo, in una villa che apparteneva alle industrie Mengele. Nel 1976 però i loro rapporti si incrinarono e lui cercò ospitalità altrove. La famiglia Bossert lo ospitò fino al giorno della sua morte. All'apparenza era un uomo semplice e tranquillo e andava perfettamente d'accordo con i figli dei Bossert. In realtà il suo timore di essere riconosciuto e catturato cresceva di giorno in giorno. Dormiva in una piccola stanza e teneva una pistola nascosta sotto il cuscino. La sua vita non fu tranquilla e piena di agi come molti credono. Il suo passato non gli dava tregua. Nel 1976 ricevette la visita di suo figlio Rolf a San Paolo. In seguito Rolf, in un'intervista a un settimanale tedesco, dirà Mio padre mi ha sempre detto di non aver fatto nulla di male ad Auschwitz. Ha ammesso di aver eseguito qualche autopsia, ma nulla di più. Detesto quello che ha fatto, ma è sempre mio padre. Avrei tanto voluto credergli. Se il corpo riesumato nell'85 è davvero quello di Josef Mengele, il 1979 fu l'ultimo anno della sua vita. Nel 1979 andò con i Bossert a fare una gita al mare, a 10 chilometri da San Paolo. Avanzò per qualche metro tra le onde. L'acqua gli arrivava alla vita, ma all'improvviso scomparve. Aveva avuto un infarto, cadde riverso nell'acqua e affogò. I Bossert lo soccorsero immediatamente e lo riportarono a riva, ma non c'era più nulla da fare. L'ise lotte Bossert dispose che il corpo di Mengele fosse sepolto nel cimitero di Ambu e sulla lapide fu inciso il nome di Wolfgang Gerhard. Nel 1985 fu ordinata la riesumazione della Salma. La commissione di esperti, formata da tedeschi, americani e israeliani, inviò i resti trovati nella tomba a un laboratorio inglese per l'analisi del DNA. Per poter eseguire il confronto, però, occorrevano altri campioni di DNA. L'analisi del DNA fu rinviata a molto tempo dopo, perché né Irena né Rolf, entrambi residenti in Germania, vollero sottoporsi al prelievo dei campioni di sangue. Io stessa andai in Germania, con tre amici e con mia sorella gemella, e inscenammo una protesta davanti alle industrie Mengele. Noi avevamo dato molto del nostro sangue ad Auschwitz. Perché loro non potevano offrire un semplice campione in nome della verità? Dopo un'inutile attesa, le autorità tedesche fecero pressione su Irena e Rolf affinché si sottoponessero al prelievo dei campioni di sangue e alla fine loro a consentirono. Si poté quindi procedere all'analisi del DNA. Grazie a questo confronto, fu possibile stabilire al 99,9% che il corpo sepolto ad Ambu era quello del padre biologico di Rolf Mengele. Nel 1992, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, su richiesta del procuratore generale, redasse due dettagliati volumi sul caso Josef Mengele. Vi si poteva leggere che gli Stati Uniti, dopo attente ricerche e rigorosi esami di medicina legale, riconoscevano il cadavere riesumato in Brasile come appartenente a Josef Mengele, l'uomo che era stato inutilmente ricercato per molti anni. Successivamente, anche Germania e Israele concordarono con questa versione. Dopo più di 40 anni, il caso era ufficialmente chiuso. Tuttavia, molti non furono convinti della veridicità di quelle dichiarazioni o non approvarono le modalità con cui erano state svolte le ricerche. Non ci si voleva rassegnare all'idea di non aver avuto giustizia. Il modo in cui Mengele morì non soddisfa la nostra idea di giustizia. Pensando alla sua morte, ci saremmo aspettati perlomeno che si ammalasse di cancro e si spegnesse a poco a poco, magari con grande sofferenza. Invece non fu così. Mengele è morto annegato, dopo aver avuto un collasso. Sarà stata questione di pochi minuti. Forse si è reso conto di quello che stava accadendo, ma di sicuro non ha sofferto. La dottoressa Gisela Perl, sopravvissuta ad Auschwitz, laureatasi in medicina in Germania, affermò So che per tutti gli studenti di medicina il giuramento di Ippocrate è come una pagina della Bibbia. E invece Mengele ne ha fatto carta straccia. Eppure una volta Iosef Mengele aveva pronunciato fino in fondo le sacre parole del giuramento di Ippocrate. Se terrò fede a questo giuramento e non verrò mai meno al mio dovere, sia il mio nome ammirato da tutti gli uomini e io sia portato come esempio per la mia vita e la mia arte. Ma se lo infrangerò e rinegherò me stesso, allora si perde il mio ricordo tra gli uomini. L'angelo della morte, il medico di Auschwitz, era diventato egli stesso l'incarnazione della morte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.